Un anno e due mesi è la pena patteggiata con la procura di Brindisi da Luciano della Corte che nelle prossime ore dovrebbe essere scarcerato. Il medico, dentista e il fratello di Vincenzo, sindaco di Francavilla Fontana, i due medici, agli arresti domiciliari dallo scorso 14 marzo e indagati per truffa aggravata ai danni del sistema sanitario nazionale erano stati pizzicati nell'aprile del 2012 dalle telecamere nascoste di striscia alla notizia mentre si alternavano con i pazienti all'interno dello studio convenzionato ASL di via Baracca. Vincenzo, per la procura soggetto non autorizzato, secondo la tesi avanzata dal PM Valeria Farina Balaori, firmava le ricette per conto del fratello medico ASL. Da qui l'ipotesi accusatoria accolta dal giudice per le indagini preliminari che poi firmò l'ordinanza di custodia cautelare. Nel mezzo due stanze di riesame respinte, prima dallo stesso GIP Maurizio Sasso e poi dal tribunale del riesame. Ora cambia evidentemente la linea difensiva. I legali di Luciano, Antonio Andrisano e Michele Mirelli hanno patteggiato con la procura. Il GIP Maurizio Sasso, dopo il consenso prestato dal pubblico ministero, revocherà nelle prossime ore la misura costrittiva dei domiciliari, mentre Luciano dovrà scontare la pena ridotta e con sospensione condizionale di un anno e due mesi. Per motivi personali e familiari, ha dichiarato Luciano della Corte tramite il suo legale, e per ritornare ad uno stato di serenità e tranquillità, ho deciso di optare per la scelta del patteggiamento. L'accusa, quella di truffa aggravata, rimane quindi in piedi, tanto per Luciano quanto per il primo cittadino, che invece almeno per il momento resterà ai domiciliari. Eppure il patteggiamento del Germano potrebbe risolversi favorevolmente anche per il sindaco, dato che potrebbero venire meno i presupposti che avevano giustificato la custodia cautelare, ovvero il rischio di inquinamento prove, rappresentate da ulteriori ricette e dalle testimonianze dei pazienti. Nessun ripensamento però sulle dimissioni già presentate da Vincenzo dalla carica di sindaco. La petizione, portata avanti da alcuni cittadini con tanto di raccolta firme, non dovrebbe sortire alcun effetto e dal prossimo 16 aprile, quando le dimissioni diventeranno irrevocabili, Francavilla sarà quindi commissariata, a meno di ulteriori colpi di scena.